Cari amici di VBTV, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con le riflessioni di calcio, puntata numero 36, siamo alla terz'ultima giornata di campionato, dove ormai il verdetto Scudetto è stato scritto, con Napoli che col pareggio con Torino e il successo della Juve sul Bologna, vede ormai lo Scudetto, manca solo la matematica, ma ormai la Juve può già iniziare in anticipo i festeggiamenti, perché con i 6 punti di vantaggio sul Napoli a due giornate alla fine, solo un'improbabile catastrofe in differenza reti potrebbe mandare lo Scudetto di nuovo a Napoli, e quindi diciamo che il settimo Scudetto consecutivo è quasi roba fatta ormai, mancano le formalità, ecco. Juve che appunto sabato aveva certificato il suo successo battendo i rimonti di Bologna per 3-1, anche se è stata una partita comunque complicata, più di quanto non si pensava per la squadra di Allegri, che è finito sotto sorpresa nel primo tempo con un rigore trasformato da Verdi, c'è stato il fallo di Rugani su Chris Etic dopo un'incomprensione tra lui e Buffon, alla fine si è discusso colore del cartellino, ma sembrava più corretto il giallo come è stato dato a Rugani, e comunque la Juve ha persi vista negare un rigore nel secondo tempo, ha visto decisivo l'ingresso di Douglas Costa, dopo un autogol che ha consentito la Juve di pareggiare, infatti il brasiliano ha dato gli assist per il 2-1 a che dire, per il 3-1 di Bala, gol numero 22 per quest'ultimo, e quindi la Juve è ribaltato raggiungendo la quota di 91 punti per il terzo anno consecutivo, anche se con due giornate da termine questa quota sarà sicuramente migliorata, e così può concentrarsi sulla finale di Coppa Italia mercoledì nella prima delle due trasferte romane, ricordiamo che poi anche domenica e bianconeri dovranno ritornare per affrontare i giallorossi nella penultima di campionato, nella gara in cui potrebbe arrivare anche la matematica, ma è difficile non attribuire già la matematica oggi, attribuire già lo scudetto oggi, anche se quando ci sarà la matematica le cose saranno più compiute, sempre sabato 5 maggio appunto, data ben cara ai tifosi bianconeri, si era iniziato alle 18 con l'anticipo di San Siro, che ha visto appunto l'altra finalista di Coppa Italia in Milan, battere nettamente il Verona 4-1 e spedirlo così in Serie B, una retrocessione che pareva inevitabile per la squadra di Pecchia, Milan che comunque si è tolto subito di impaccio non facendo altre figuracce come era successo col benevento due settimane or sono, e con Milan ha praticamente risolto subito la pratica, sono andati a segno un po' tutti da Cutrone, ha segnato persino Abate, un uomo specialista per segnare gol a squadra che poi retrocedono, poi aveva segnato Cialanoglu, credo che aveva fatto il primo gol, e poi c'è stato spazio anche per Borini, per il Verona la consolazione del coreano Lee al primo centro in Serie A, ma ormai non si poteva fare nulla per evitare una retrocessione che si è rincanalata su tali binari dopo la sconfitta interna con la SPAL, e adesso tutto bene quindi per il Milan che riesce anche a riprendersi il sesto posto e avrà la possibilità in caso di successo del mercoledì in Coppa Italia di arrivare dritto alla fase a Gironi dell'Europa League, come la sarebbe adesso sul campo, e di addolcire così in più la trasferta di Bergamo in programma domenica nel tardo pomeriggio. passando poi la partita di domenica 6 maggio, di ieri praticamente, si è cominciato alle 12.30 con l'Inter che nell'anticipo ha praticamente sommerso la povera Udinese per 4-0 a Friuli, riscattando così la sconfitta con aspre polemiche maturata in casa con la Juve, ricordiamo le reti, sono stati arrivati da Ranocchia, da Rafinha, quest'ultimo primo centro in Serie A, e da Icardi con il numero 28, ora solo ad una, da capo canonierica immobile, già al primo tempo quindi partita risolta per l'Inter che poi si è trovata anche in superiorità numerica per l'espulsione adesso non mi ricordo più di chi, e così è arrivato anche il quarto gol firmato da Borca Valero, e l'Inter che poi si è ritrovato a due punti dalla Champions visto che la Lazio nel pomeriggio pareggia con l'Atalanta e l'Udinese invece sempre più coinvolto nella lotta per non retrocedere. appunto il pareggio per 1-1 tra Lazio e Atalanta, l'Atalanta era passata in vantaggio per primo con il gol del solito barro, ormai una certezza consolidata, poi il pareggio laziale che ha portato la firma di Caicedo che sostituiva i bomber immobili assente, e la Lazio così è scivolata a quarto posto, ora con solo i due punti di vantaggio, l'Atalanta che comunque avrebbe meritato anche di vincere per ciò che ha costruito soprattutto nella ripresa, Schiave a settimo posto e ora vede la Fiorentina a soli due punti, e soprattutto attesa dallo scontro diretto con Milan di domenica appunto. il controsenso è stato appunto il risultato negativo per l'Atalanta, che sarebbe condannata a questo momento a fare i play-off estivi, ma vedremo su tutto da giocare, appunto la stessa Viola che ha riaccorciato le distanze vincendo in rimonta 3-2 in casa del Genoa, termine una partita spettacolare, Viola sono passati in vantaggio per prima con Ben Assis, su Assis del grande ex-Simeone, poi il Genoa però la ribaltata nella ripresa con il ritorno al gol di Pepito Rossi che non segnava in Serie A addirittura 4 anni dal maggio del 2014, e poi con la Padula, gol numero 6 in questo campionato, prima che nel finale arrivassero i gol di Eiseric e di Dabo, per ribaltare una partita, questi ultimi due ricordiamo che sono il loro primo centro in Serie A, per ribaltare una partita che consente così alla Fiorentina di riportarsi all'ottavo posto, il Genoa che ormai salvo non aveva più null'altro da chiedere al suo campionato, e quindi ricordiamo che addirittura i Rosso-Blu devono essere rimasti 9, tanto per facilitare la rimonta alla squadra di Pioli, e così è tutto per quanto riguarda le partite pomeridiane della zona alta, alta comunque nelle zone europee, scalando poi le partite chiave per la zona salvezza, c'è lo scontro diretto del Bentegodi che ha visto il Chievo che ha visto appunto il Chievo, tanto cos'è sta roba qua, un vecchio cassetto, che ha visto appunto il Chievo prevalere per 2-1 su Crotone, e quindi a rianimare la squadra di, dalla bandiera d'Anna, tra cui l'esonero di Maran ha preso il posto, le reti sono state firmate da Birsa e da Stepinski, sempre più decisivo, il giovane polacco per la sorte del Chievo, e il Crotone ha trovato il gol solo nel recupero con Tuminello, ma ormai la partita era finita, e così il Chievo che era in zona retrocessione, ora ci esce al momento, a Canci classifica proprio lo stesso Crotone, ricordiamo che nel zona retrocessione ci sono ancora 5 squadre in lotta, tra le quali c'è anche la Spal, che ieri si è giudicata, appunto, la sfida col Benevento, sfida che poteva sembrare scontata, in quanto il Benevento, appunto, è già retrocesso, e invece è stata, va bene, il Benevento è lato solito onorevole partita, però stavolta non ha potuto nulla contro la Spal, e i gol siglati da Paloschi e da Antenucci su rigore, che così presentano la Spal di portarsi abbastanza al sicuro, anche se ha solo due punti di vantaggio sulla zona retrocessione, e comunque è la squadra che guida il gruppetto di 5 squadre in piena lotta, e tra l'altro non so neanche da quanto tempo la Spal non vincesse due partite di fila, non so neanche da quanto capitasse, però vabbè è successo, quindi, a suo modo, può essere definito anche un evento storico, ecco. Poi, vabbè, non c'è appunto che, parlando del pareggio dal Napoli, appunto, ho fermato su 2 a 2 in casa dal Torino, due volte ripreso per essere stato in vantaggio, dimostrazione di aver mollato anche sul piano psicologico, probabilmente dopo la partita di Milano della Juve, l'Inter ha mollato completamente, pensare che poteva essere ancora meno 1 e dare del filo da tolcere alla Juve, invece si volando a meno 6, ha praticamente rinunciato tutto, ora si parla anche di un addio di Sarri a fine stagione, per quanto riguarda la partita in Napoli è riuscito a passare in vantaggio con Mertens, grazie a un clamoroso errore di Burdisso in fase di disimpegno, il diciottesimo gol per il Berga, però il Torino ha raggiunto immediatamente il pareggio, grazie a Baselli, a inizio di presa, Anzic poi appena entrato ha riportato i vantaggi in Napoli, prima del pari di De Silvestri, che così ha sancito il pari definitivo, serviva ben poco il Torino e il pari, ma il Napoli è decisamente apparsi un po' sotto tono nonostante un palo colpito da Milik e quant'altro? Tanto qui siamo in zona... Ah beh, poi restano due partite da mettere in esami, posticipo delle 18 che ha visto appunto il Sassuolo ottenere la salvezza matematica, superando per 1 a 0 la Sampdoria, ha deciso i gol del solito politano, che così consente ai neroverdi di attestarsi a quota 40 e appunto festeggiare una salvezza che a un certo punto della stagione sembrava quasi messa in discussione. Per la Sampdoria resta allacciata ancora la matematica, ma con questa sconfitta, la terza di fila fuori casa può dire addio alle ambizioni europee dopo aver mantenuto a lungo anche il sesto posto e quindi la squadra, dopo che sembrava essere rientrata in gioco con il successo di Bergamo, invece ora è probabile che debba rimanere fuori, anche perché la Fiorentina è sempre decisamente messa meglio. Ricordiamo che i punti di ritardo dall'Atalanta sono 5 e sembrano incolmabili a questo punto della stagione. Infine, nel posticipo serale, la Roma si impone per 1-0 a Cagliari, mantenendo il terzo posto, ha deciso un gol del solito Unger, anche se Cagliari tra errori sotto porta e rigori non concessi ha decisamente recriminare, adesso la squadra Sard si va a terzittimo posto e con un calendario davvero impegnativo, massacrante, per non dire perché dovrà giocare contro due squadre in lotta per l'Europa, cioè la Fiorentina in trasferta e l'Atalanta in casa, quindi davvero un calendario brutto per la squadra di Lopez, però purtroppo si è ridotti in questa situazione, in una zona salvezza, che vedi adesso Spala a 35, Chievo Dinese e Crotone a 34, adesso Cagliari a 33, un bel mischione finale, da cui uscirà tra queste 5 la squadra che andrà in B, per le altre saranno tutte salvezze, comunque saranno salvezze sofferte, la Spala decisamente di ricrederci, Crotone che sembrava invece avviato bene dopo i 7 punti nelle ultime 3 gare, ora rischia di nuovo, anche perché il Crotone insieme a Cagliari è quello che avrà il calendario più difficile, con la Lazio in casa e il Napoli in trasferta, quindi... Vabbè, quindi restano gli ultimi 180 minuti, dopo la finale di Coppa Italia mercoledì tra Juve e Milan all'Olimpico, con la Juve che punterà a questo punto al dubbio e quarto di fila, a quello che punterà mentre in Milan cerca quella Coppa Italia che manca dal 2003, dopo la finale persa appunto due anni fa sempre con la Juve, ma vediamo, poi il prossimo turno sarà il penultimo, vedrà tra gli anticipi appunto Inter Sassuolo che sarà sabato sera, poi domenica tutte le varie sfide incrociate per quanto riguarda Europa League, Champions, salvezze e tutto quanto, da cui appunto spiccherà Atalanta-Milan alle 18, in serata poi ci saranno Roma-Milan, Roma-Juve e Sampdoria-Napoli, ormai non serve più neanche la contemporanea per queste due sfide, che aveva chiesto dei laurenti per le ultime due giornate, ma adesso ormai non serviranno neanche più, mai è finita così e pazienza, e vabbè poi niente, turno si chiude qui, noi appunto con la riflessione di calcio torneremo lunedì prossimo per una nuova puntata riassuntiva. Nel frattempo, grazie a chi ci ha seguito questo video, ricordiamo appunto che adesso nella zona Cemplo c'è la Roma a quota 73, la Lazio a quota 71, l'Inter 69, che si è la Sampdoria 54, ormai tagliata fuori, Verone Benevento già in B, e quindi Juve ormai quasi campione d'Italia, 91 contro gli 85 del Napoli, e a questo punto vedremo che succederà negli ultimi 180 minuti, se già qualche verdetto si emetterà già la prossima giornata, o si orienterà, o si dovremo aspettare tutto l'ultimo. Grazie a tutti e alla prossima, ciao ciao!